A seconda della versione, Renault Talisman è dotata di luci in curva. Quando vengono utilizzati gli indicatori di direzione di notte, la luce fendinebbia sul lato interessato si accende per ampliare l'angolo visivo del conducente. La luce fendinebbia si accende anche quando il volante viene girata a una velocità inferiore a 40 km orari. Grazie a tutti.